Canta Cairo 2017 Zunino i fai Ci siamo Allora, questione signori che adesso qui le cose crescono improvvisamente è prima di avere i capelli adesso cioè no, prima di avere i capelli adesso ce li ha e parliamo di Maurizio Baccini Zunino i fai guardate come si è portato io non ho parole vai vai un grande artista Zuni Abelardo Ortiz un grande artista ci siamo ciao Pocci vai vai si è una creatura che mi amo e perché non mi ha mai visto innamorato io ti giuro che lo stesso mi soffrendo e come di provviso sono cambiato che non mi ha mai visto innamorato e vorrei poter fermare i tuoi pensieri dove i momenti mi scriva mi rinconia mi fa sentire geloso di chi non ha di più pensami dato tanto intesamente con il corpo e con la mente, come se io consigli guardami, con quei occhi al suo romale, se mi fanno anche scannare, ma mi piace anche così sognami, con la forza facile in amante, che lontana e non distante, ma che arriva qui baciami, baciami, baciami tutta la mia pelle si può arrivare alle stelle, dicendo semplice, si grazie 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 puglio puglio è grosso? sono molto peloso non peloso, peloso come stas? molto bene molto bene mi sono portato tre lungi acce tre lungi acce beh sis grazie 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 Grazie, grazie.